Lick, ben ritrovati i miei cari vintori dell'Uisona Barcaccio quest'oggi abbiamo raccontato dell'arrivo imminente dell'Arnautovic pronto a sbarcare al noto porto di Bologna o meglio dire al noto interporto di Bologna va bene, noi pronti ad accoglierlo a braccia aperte benvenuto Mark Arnautovic e grazie Gioei saputo per questo super mega acquisto però in questo video voglio adesso anche mettere un focus su un problema un'altrettanta cosa da dovere dipanare da parte della dirigenza e farlo nel minor tempo possibile laddove sia cosa appunto auspicabile e fattibile sto parlando degli esuberi, degli esuberi e voglio fare a tal proposito anche un discorso a tutto tondo in che senso? Sento talune volte anche leggendo nei commenti nei miei video, grazie sempre di esprimere la vostra opinione sono sempre avido di leggere quello che pensa il tifo rosso-blu e vi dico di più delle volte mi date veramente degli input e mi stimolate i neuroni e quindi di questo ringrazierò sempre i miei cari avventori però delle volte rimango un attimo interdetto quando leggo eh ma dottor Lugione io però quello lo terrei quell'altro è buono in realtà ci potrebbe servire sì e no nel senso ci sono dei giocatori obiettivamente che si pensava potessero essere buoni ne citiamo uno su tutti Godfred Don Sa eh quando lo acquisimmo dal Cagliari ma lo stesso Federica Santander per carità quando l'abbiamo acquisito dal Copenhagen ok per 6 milioni e mezzo tutti pensavamo potesse essere un acquisto virtuoso e tutto sommato dopo la prima stagione parlo in questo caso del Santander anche se poi non è che avesse ok con l'omicino fatto chissà luci e fiamme ok però insomma Ottoretti le aveva le aveva segnate in campionato però poi cosa accade? accadono che arrivano degli allenatori che taluni giocatori non li vedono accade che poi quei taluni allenatori che quei giocatori non li vedono le fanno qualche volta giocare in campo scendere in campo e quindi giocare e questi giocatori faticano perché non sentono la fiducia del proprio allenatore magari vengono messi in campo in posizioni che a loro non sono consone e questo che cosa comporta? comporta che il tifo incomincia a rumoreggiare quando li vedi in campo e questo cosa comporta? comporta lo svilimento mentale da parte di quel giocatore quando indossa questa maglia ok? quindi comporta un'attitudine negativa che si viene ad instaurare in taluni giocatori e non dobbiamo avere purtroppo paura di dirlo né non doverlo dire per ragioni sentimentali ma ci sono dei giocatori a cui abbiamo e vogliamo bene tuttora ma che purtroppo non sono più utili alla causa del Bologna e l'erropero Santander purtroppo purtroppo è uno di questi per il suo bene io lo dico soprattutto e potrei fare un parallelo con appunto un ritorno di fiamma quante volte abbiamo avuto ritorno di fiamma non funzionano non funzionano ok? quindi anche qua sarebbero dei ritorni di fiamma che poi sarebbero dei ritorni di fiamma per mancanza di alternative e loro lo sanno se Santander se Don Sa ma possiamo mettere anche Densville abbiamo Densville se Densville dovesse fare parte del pacchetto difensivo dei quattrocentali il prossimo anno ma voi pensate di avere un Densville bis di chissà quale portata o pensate di rivedere lo stesso Densville che abbiamo visto se non addirittura magari peggio ok? per tutta una questione che vi ho poc'anzi raccontato quindi io mi auguro che la dirigenza prenda in considerazione il fatto di Kingsley Paz Corbo Medel lo stesso adesso vi spiego perché lo stesso Baldurson Mbaye Santander Calabresi Falcinelli Don Sa Densville Nicola Sansone e mi fermo ok? non voglio osare ad aggiungere altri questi sono giocatori che o vanno dati in prestito vedi il caso del Baldurson Baldurson non è che lo boccia che lo voglia bocciare ma ha bisogno di giocare ha bisogno di giocare ormai che cosa va il Baldurson per i 20 anni il prossimo anno e ancora è lì che fa fatica a fare in maniera accumulata 5 partite all'anno ha bisogno di giocare dobbiamo darla a qualcuna che ce lo faccia giocare altrimenti è un giocatore che si sta perdendo e lo vediamo è un giocatore che si sta perdendo quindi lui ma così come Binx Binx è improponibile pensare che possa essere utile al Bologna meno che non fosse ok un astro nascente del calcio di cui tutti non ci siamo resi conto fino a ieri altrimenti ha bisogno di giocare lo stesso Cangiano ha bisogno di giocare non possono trovarlo qua terreno fertile per giocare mentre ci sono altri giocatori vedi Corbo ad esempio e vedi Kingsley che di anni ormai ne hanno 21 che purtroppo mi dispiace dirlo sono giocatori a cui diciamo la dirigenza ha preso ha preso dei granchi ha preso dei granchi perché a 21 anni andare in prestito e vedi anche Kingsley non riuscire ad essere titolare o comunque a maturare un buon numero di presenze vuoi al letto di infortuni vuoi al tutto ma non riescono mai a sbocciare vuol dire che probabilmente si c'erano delle problematiche che non pensavi li acquista a 18 anni in questo caso questi due giocatori ad esempio altre addirittura hai la visione di volerli acquistare a 15 a 16 non sorprendiamoci se poi tre quarti di questi giocatori non arriveranno ad essere quello che ti auguri che sia ma è anche ovvio e giusto che sia così però bisogna poi cercare di sbolognarli e invece li teniamo tutti quindi io vorrei vedere virtuosismo sul mercato uscita anche da questo punto di vista ora andiamo a fare una veloce carellata della situazione Medel sembra che Medel e l'abbiamo anticipato oggi sia in rotta con la società in rotta con la società più che in rotta con la società in rotta con Sinisa Mikhailovic Mikhailovic ha parlato chiaro e le parole rilasciate sul Medel sono arrivati a Medel e al suo procuratore in sostanza gli ha detto che non può garantirgli alcunché la titolarità e che dovrà farsi trovare pronto nel qual caso Mikhailovic decida che possa giocare a Medel questo non sta bene perché vorrebbe sempre giocare Medel quindi è altamente consigliato da parte appunto sua trovarsi un'altra sistemazione ed è quello che il suo agente sta provando di fare prima che finiscano le vacanze del Medel così da evitagli di tornare a Casteldebol quindi sta cercando una soluzione in Europa in Italia magari perché vorrebbe rimanere qua ma non vede di buon grado l'uscita della Turchia per questo sta temporeggiando e si sta guardando attorno perché di offerte in Turchia e in Sud America ne avrebbe ma non sarebbe la sua priorità Mbaillet e Don Sa sembrava forse un pacchetto destinato all'Empoli poi l'Empoli sulla destra hanno acquistato diversamente non so se sul Don Sa ci sia ancora un flebile interessamento se anche su di lui sia scemato del tutto fatto sta che adesso questi due giocatori si rischia di vederci rimanere sul gruppone e non si capisce bene se esistono delle società interessate Falcinelli sappiamo tutti la Stella Rossa non l'ha riscattato lui voleva tornare per motivi personali in Italia sembra che ci sia un flebile interesse da parte del Brescia guidato dalla super pippa in Zaghi stiamo a vedere se quest'amore potrà sbocciare Santander non si hanno notizie di interessamenti perché? perché è un giocatore che non sai se da un punto di vista fisico sia recuperato anche perché vedendolo dalle ultime uscite qualche dubbio te lo fa rimanere e le squadre ovviamente che eventualmente sondano giocatori del calibro di Santander guardano anche questo già di per sé non è che abbia fatto fuoco e fiamme in questi anni in più ci metti che è precario fisicamente uno se ne guarda bene probabilmente di richiedere Santander l'anno scorso lo voleva la Spezia quest'anno pare nessuno Nicola Sansone penso non sia neanche sul mercato da parte della società a mio modo di vedere un qualcosa di inspiegabile perché dico qualcosa di inspiegabile anche qua c'è un ragionamento dietro non lo dico per dire abbiamo il giocatore che guadagna di più di tutti adesso arriva Tarnatovic abbiamo il secondo giocatore che guadagna più di tutti ed è un panchinaro ed è un panchinaro è qualcosa che mi fa uscire dai coppi mi fa uscire veramente dalle non ci devo pensare non ci devo pensare Sansone va piazzato ragazzi non ha senso tenere un panchinaro a 1,6 milioni di euro netti a stagione non ha senso non ha senso capiamolo capiamolo mettiamoci una croce sul petto e capiamolo ha detto che è tifoso della Salernitana che non vede l'ora di arrivare a giocare alla Rechi proviamo a vedere se alla Rechi ci può giocare da protagonista e non da ospite io dico Densville wow ha vinto il campionato in Belgio col Club Rouge peraltro penso giocando una manciata di partite però per carità ha vinto perché non lo vogliono perché nessuno lo vuole questo Densville che è buono come il pane se è buono come il pane perché nessuno lo vuole mistero poi ci sono tutti i resti Corbo Kingsley ok Cangiano e compagnia cantante lo stesso Don Sa che verranno sicuramente piazzati da qualche parte queste sono operazioni da ultimi giorni di mercato quando ci sono le squadre disperate perché fortunatamente non siamo gli unici a trovarci a essere disperati talune volte busseranno alla porta del Bologna e diranno datemi Cangiano datemi Corbo che l'è buono come il pane e allora lì forse ne piazzeremo qualcuno in prestito con nessuna speranza di riscatto proprio si chiama così la clausola in prestito con nessuna speranza di riscatto allora amici cari vintori fatemi sapere se siete concordi e d'accordo su quanto raccontato in questo video godiamo dell'Arnautovic che è arrivato l'Arnautovic che ci porterà i Goals e gli assist e catalizzerà ok le difese avversali bene attivate il camperaccio pastorale iscrivetevi lasciate sempre un mi piaccino ai video dell'illusione per calcio indice di gradimento sempre alto e di gradazione alle stelle condividete e noi ci sentiamo alle prossime chiacchia da bar